mamma mia mamma mia bello 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 benissimo così benissimo così soprattutto considerando in che condizioni dal punto di vista della rosa ti è ripresentato pure oggi e invece nonostante tutto mi sento anche quasi di poter dire un'altra sanissima passeggiata di salute un'altra passeggiata di salute ennesima partita dove vai all'intervallo sul 2 a 0 all'inizio del secondo tempo trovi il 3 a 0 e che comunque non è scontato a maggior ragione in una trasferta come quella di verona squadra che non più di una settimana fa aveva dato tre belle sonore papine nel muso al napoli che ieri ha scherzato col bologna e quindi questi ragazzi sono indubbiamente sono segnali dal punto di vista tecnico magari anche dal punto di vista di testa beh lì sinceramente direi assolutamente sì e prima di fare tutte le ulteriori varie considerazioni ragazzuoli mi raccomando un bel mi piace di sostegno di supporto iscrivetevi se ancora non l'avete fatto perché domani uscirà il solito video e va bene ma anche proprio dal punto di vista del fanta non del fantacalcio del calcio mercato domani rischia di essere una giornata molto ma molto ma molto interessante tra discorsi entrate discorse uscite e ragazzuoli che bella questa juve e il bello è che se ci pensiamo rispetto all'anno scorso quantomeno in questa partita qui nello specifico solamente due elementi di fatto sono cambiati cabal e di gregorio due giocatori che magari nel computo totale non è che ti vanno a spostare mille mille equilibri perché per quanto certo oggi dal primo minuto abbiamo visto bangulà abbiamo visto savona tra l'altro autore del suo primo gol all'esordio da titolare pure lui mio padre spirituale nicolo savona entrambi erano giocatori che l'anno scorso erano comunque di proprietà della juventus e che quindi insomma volendo le potenzialità per poterli vedere anche nella passata stagione ci potevano essere e se alla fine con nove undicesimi hai fatto questo genere di partita a verona e beh indubbiamente la musica un pochino sta cambiando con la giusta calma e c'è ancora tantissimo da lavorare c'è ancora tantissimo da migliorare comunque non siamo qui a sparare sentenze definitive dopo 2 3 a 0 contro como e contro verona però considerando ciò che eravamo abituati non più di cinque mesi fa ecco andare a verona e stare tra zero al cinquantesimo non era una roba abitudinaria anzi proprio ma proprio ma proprio per nulla sinceramente e al di là di tutto si vede che una juventus anche che dal primo all'ultimo oltre che rimanere sul pezzo rimane là davanti rimane aggressiva con uno spirito di sacrificio immenso basti vedere la reazione di ildis che in un contrasto riesce a conquistarsi una rimessa laterale all'ottantesimo quando nel senso che la vinci o che la perdi sti cazzi invece no si va con la cattiveria per portarsi a casa quella rimessa laterale come se da quella rimessa laterale lì dipendesse l'esito dell'intera partita c'è magari un dusan blauvic al novantesimo sul 3 a 0 che può tranquillamente star lì vicino al portiere che rinvia ok il portiere rinvia con le mani lui rincorre a tutta randa il terzino che riceve il pallone e quelli sono dei piccoli cambiamenti che alla lunga rischiano di fare veramente tutta la differenza del mondo poi dopo c'è sempre la meravigliosa under 23 che avanza come detto prima bangula pure oggi assist per savona due giocatori che non più di tre mesi fa erano due giocatori dell'under 23 gol e assist nella stessa azione ildis 2005 che recupera dopo il recupero di locatelli il pallone ed al via libera a dusan blauvic per il gol dello 0 a 1 bangula che rimedia anche il rigore per il 3 a 0 di dusan blauvic e questi sono segnali sono se non ci possiamo neanche troppo girare attorno sono segnali e uno pensa anche legittimamente beh noi comunque oggi fino a prova contraria eravamo andati in una situazione non dico d'emergenza però non ci siamo andati neanche troppo lontani tanto che comunque abbiamo visto entrare lui abbiamo visto entrare che comunque sono entrati bene hanno fatto il loro e per l'amor di dio va benissimo magari anche con una juventus completa a livello di organico sul 3 a 0 a 10 minuti dalla fine sarebbero anche entrati lo stesso a prescindere da chi avevi dietro ci mancherebbe però pensi beh se i presupposti sono questi qui dove in sostanza a parte di gregorio a parte cabal ha giocato la gente dell'anno scorso quando magari entreranno con continuità o giocheranno con continuità douglas luiz che frenturam che comunque oggi mancava se sentite la scienza no e contro il como aveva fatto una partita mostruosa e nico gonzalez con se sao si dice che domani dovrebbe essere la giornata giusta per copmainers e chissà se riusciremo a condire il tutto con la ciliegina sulla torta sancio qualora ci dovessero essere questi 5 6 7 elementi in più che oggi e contro il como di fatto sono mancati a parte che frenturam che cosa ci aspetta è una domanda penso legittima però ovviamente le cose vanno fatte con calma vanno fatte step by step si è partito con il como oggi verona comunque trasferta bastarda storicamente negli ultimi anni quantomeno la trasferta di verona che veniva da un 3 0 contro napoli la prossima comunque si aumenta sempre più di livello visto che ci sarà la roma anche se per come è partita cioè fino a prova contraria il verona aveva più punti della roma e lì a tuttora fino a prova contraria perché da che mondo a mondo 3 e comunque pur sempre maggiore di 2 e già io di nuovo non vedo l'ora di vedere in campo la juventus una sensazione che mancava a tutti a tanti anche da un bel pezzettino dove si magari anche oggi si può dire che non è che sia partito tutto nel migliore dei modi ok però sempre lì tranquillo aggressivo senza mai di fatto concedere nulla un altro dato abbastanza spaventoso e che tipo in due partite non hai mai letteralmente preso un tiro in porta beh che oggi non è vero scusatemi a due minuti dalla fine c'è stato quel mezzo pasticcio dove di gregorio non ha fatto la minima fatica ad arrivarci scusate effettivamente un tiro in porta in due partite te l'hanno fatto chiedo venia però è uno spirito diverso e qui c'è un cazzo da fare l'allenatore conta l'allenatore incide l'allenatore trasmette e tutto ciò che trasmette nell'arco della settimana nell'arco dei mesi poi in campo lo si vede e a livello di idee a livello di aggressività a livello di mentalità c'è stata un'importante mano c'è stata che deve sempre migliorare deve sempre andare increscendo perché non è tutto quanto fatto e finito qui ci mancherebbe altro però i presupposti ci sono e adesso sta solamente a loro sta anche a giuntoli che da qui a sabato deve ultimare le ultime operazioni tra entrate e uscite per quanto diverse siano già impostate nel migliore dei modi affinché possano concludersi è tanta roba ragazzuoli tanta roba voi ovviamente fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto con un commento ci vediamo domani ci vediamo domani io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza juve